Saluto tutti quanti gli ascoltatori di Fanno TV e ringrazio tutta la struttura perché ci mette a disposizione questo strumento per dare un'informativa ai nostri soci, ai clienti e a tutto il territorio visto che ci definiamo banca del territorio con tutte le responsabilità ma anche con tutte le possibilità di intervenire su questo territorio in un momento certamente non facile. Stamattina volevamo illustrare un po' alcune iniziative di tipo finanziario che intendiamo proporre alla nostra clientela, al territorio, ai soci e soprattutto in relazione alla difficoltà di far fronte agli impegni finanziari che naturalmente ci sono ma che in questo momento per molte attività non sono sostenuti da ricavi o perché le attività non possono essere esercitate quindi si tratta sicuramente di una situazione del tutto nuova e abbiamo pensato che non bastasse fare le moratorie, fare dilazioni, manovre che continueremo a fare ma si tratta comunque di situazioni anche che vengono proposte poi e saranno sostenute anche a livello proprio di disposizione da parte del governo e quindi dovremmo comunque vedere un po' se queste iniziative come le possiamo proporre ma sappiamo anche che non sono in molti casi risolutive. Io lascio un po' la parola a Giacomo, al direttore, per illustrare due iniziative che da subito intendiamo proporre alla nostra clientela. L'obiettivo della banca è intervenire ad integrazione delle iniziative poste in atto dal governo, tutte le iniziative e vari decreti che si suggeriranno anche nel tempo ma cercare di individuare delle esigenze specifiche anche del nostro territorio con riferimento alle difficoltà che sta vivendo da un punto di vista economico oltre che chiaramente di vita sociale. Abbiamo pensato a due prodotti in particolare a sostegno della liquidità delle aziende che in alcuni casi hanno dovuto proprio interrompere l'attività, in altre hanno avuto una drastica riduzione. Quindi l'intervento di liquidità è volto a sostenere queste imprese e traghettarle in un momento migliore. Quindi abbiamo pensato a due prodotti con un'unica caratteristica di preammortamento al 31 12 2020. Quindi le rate di questi finanziamenti decoreranno dal prossimo anno. Il primo prodotto che abbiamo pensato, che ha un importo massimo di 25.000 euro a un tasso dell'1%, è dedicato all'attività commerciale e servizi. Categorie che sono state proprio costrette a chiudere temporaneamente l'attività e quindi si troveranno a fronteggiare un periodo di blackout da un punto di vista di incassi, incassi zero. Quindi vorremmo sostenerli con un finanziamento a 48 mesi, quindi a 4 anni, a partire dal 31 12 2020 con la logica di cercare di razionare nel tempo queste difficoltà. Quindi l'obiettivo è riprendere da subito, ci auguriamo quanto prima, l'attività economica ma sappiamo che sicuramente questo periodo si pagherà nel tempo. Quindi lo vorremmo traghettare un po' nel tempo e dare la possibilità a tutti di ammortizzarlo in più anni. Il secondo prestito invece è rivolto alle attività produttive e lo vorremmo estendere anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che pur non avendo avuto l'obbligo di chiusura delle attività stanno registrando un forte calo del lavoro con entrate, quindi fatturato ridotto al minimo. Qui non abbiamo un importo massimo, chiaramente abbiamo dimensioni aziendali diverse, quindi l'importo verrà valutato caso per caso, il tasso fisso è dell'1,50 ed il rimborso è previsto entro 24 mesi, sempre a partire dal 31 12 2020. La novità è che in tutte queste richieste di finanziamenti dobbiamo prediligere l'online, quindi tutte le richieste di tutti i soci, i clienti interessati a richiedere questi finanziamenti seguiranno la modalità di richiesta online. Beh, volevo fare alcune considerazioni che riguardano un po' la nostra forza, la capacità di fare un po' queste iniziative, dipende dal fatto che abbiamo un patrimonio importante e quindi abbiamo anche tutti gli strumenti per poter anche assistere la clientela. È ovvio che la banca deve guardare anche la prospettiva di rientrare, però in effetti queste due operazioni che andiamo a proporre sono operazioni che vogliamo fare, vogliamo spingere perché dare una sensazione veramente di attenzione da parte nostra per il territorio. Noi notiamo anche una cosa importante che forse non era inaspettata, che in questo momento di difficoltà abbiamo anche tanti che chiedono di diventare soci della banca e qui il fatto è dovuto che iniziative ne facciamo tante, dalle borse di studio, bonus bebè, tutta una serie di contributi che diamo alle società di vario genere, soprattutto nello sport e quindi molti molti ci chiedono di diventare soci anche in questo momento perché magari pensano, io dico giustamente, che la banca possa fare qualcosa anche di iniziative che riguardano un po' tutto il nostro territorio. E volevo anche dire che c'è stato un momento di difficoltà qualche giorno fa quando la Presidente della BCE ha fatto un'affermazione che adesso per molti magari non è stata manco compresa il significato però quando ha detto che lei non era in quel ruolo per difendere lo spread dei vari paesi. Sappiamo che in relazione al debito che ha l'Italia, questo qui discorso generale, sicuramente questa dichiarazione ha portato un po' di scompiglio, adesso c'è stata una ripresa, c'è stato un chiarimento importante, è vero il debito italiano è un debito importante però certamente noi abbiamo intenzione di rimborsarlo quindi questo qui è un dato di fatto e comunque sia ci aspettiamo anche che a livello di banca centrale ci sia questa attenzione. D'altra parte anche il nostro ruolo di banche del territorio avrebbe bisogno di essere un pochino tutelato perché siamo banche di una certa dimensione e non ci possano fare il trattamento di banche significant come fossimo paragonare per esempio paragonati alla banca intesa non so quindi evidentemente le nostre banche di territorio sono banche che devono certamente avere i conti in ordine però dovrebbe essere considerate con un po' di attenzione ci aspettiamo che questo qui avvenga nel tempo magari in questa fase qua. Come banca del territorio ma siamo banca quindi siamo una banca un servizio di pubblica utilità quindi pur avendo rivisto adeguato gli orari dei nostri sportelli quindi abbiamo ridotto dalle 8 e 30 alle 13 abbiamo assicurato i servizi di consulenza online a distanza previo contatto telefonico vorrei fare un ulteriore appello alla nostra clientela e ai nostri soci è un momento particolarmente difficile da un punto di vista di vita quindi per la sicurezza di tutti la clientela è invitata a non recarsi in filiale per operazioni rimandabili avremo tempo di assistervi non c'è problema e d'altronde attraverso i nostri canali di comunicazione via telefono via email sui social via whatsapp potremo darvi consigli a distanza e privilegiando anche quelli che sono gli strumenti telematici dalle carte quindi monetica dai prelievi bancomat attraverso tutto quello che abbiamo a disposizione questo è importante perché ci consente anche di organizzarci meglio di evitare dei rischi facciamo ripartire prima la vita e poi ripartiremo a livello di attività economiche e tutte queste iniziative la banca le può fare perché ha chiaramente dei buoni risultati di bilancio con oltre 8.500 soci 34.000 clienti un utile 2019 di 5.700.000 euro un chat one del 21% quindi rendono questi dati rendono la banca solita in grado di sostenere il territorio quindi anche di restituire quella fiducia che gli è stata accordata quindi direi l'auspicio è che passata questa prima emergenza siamo pronti anche noi a rimettere in moto la fiducia nella logica di quella fiducia che chiamiamo noi circolare tra soci, clienti e territorio per ripartire con forza e ottimismo prima di tutto nella vita ma poi anche nell'attività economica grazie